L'oggetto vaso nel Novecento italiano ha avuto uno sviluppo particolarmente interessante nei luoghi in cui l'artigianato ha raggiunto un livello tale per cui gli oggetti non erano più di artigianato ma erano degli oggetti quasi di arte pura. Parlando di uno dei materiali più belli creati in Italia che è il vetro di Murano, Murano è poi un luogo che ha avuto la grande fortuna che essendo a Venezia di far accostare le vetrerie, i direttori delle vetrerie, agli artisti che ogni due anni esponevano le biennali. E' appunto per questo che da questa simbiosi tra arte e artigianato si sono realizzati tra i più bei vetri di produzione del Novecento europeo a questo punto dove naturalmente l'oggetto vaso perde completamente il suo significato di essere un oggetto che deve recare all'interno qualcosa ma diventa proprio lo spunto per diventare una vera e propria opera d'arte.